Ciao amici! Ecco perché questi cani sono illegali in molti paesi. Ti piace fare footing nel bosco e hai proprio voglia di compagnia, del tipo che puoi difenderti nel caso in cui venissi attaccato. Sapevi che esiste un cane perfetto per questo? Si tratta del fila brasileiro, un bel cane che viene dall'incrocio tra il mastino, il bulldog è il cane di Santuberto. È un cane affettuoso, coraggioso, facile da educare, ama le coccole i giochi, è un buon cacciatore, indipendente e molto obbediente, quindi perfetto per il tuo footing. Ma è anche un cane aggressivo, diffidente verso gli estranei, un po' distruttivo e non esita a saltare su qualcuno in caso di eventuale minaccia. Questo cane può anche mostrarsi molto pericoloso a causa delle sue dimensioni, quindi se ne compri uno e diventa tuo amico è perfetto, ma ci sono molte possibilità che sia il tuo unico amico, perché mi stupirebbe che i tuoi amici possano accettarlo, tanto che è imponente. Ma pensandoci è l'unico in grado di alzarsi alle 5 del mattino per andare a correre con te, a differenza degli altri. Se questo non è vero amore! Ed ecco il Tosa Inu, un cane di razza giapponese che è famoso per il suo passato solforoso da cacciatore. Il Tosa Inu è molto sorprendente, dotato di un forte carattere, un fisico dissuasivo, potente, muscoloso, robusto, dalle dimensioni impressionanti. Abbaia poco, è calmo, paziente e ponderato, ma quando è davanti a una situazione instabile, il Tosa diventa meno amichevole. È un ottimo cane da guardia che non esiterà a difenderti. Ami il Boer Boel e sogni di averne uno. Prima di acquistarlo bisogna che tu sappi i rischi che rappresenta questo cane. Il Boer Boel è proveniente dal Sudafrica, viene dall'incrocio tra il Brabanter Bullen Beechter, razza al giorno d'oggi estinta, e da cani europei locali. Questo cane è estremamente potente, difende molto bene ed è un buon cane da guardia. Il Boer Boel ha un carattere dominante, si mostra diffidente verso qualsiasi persona estranea ed è anche molto dissuasivo a causa della sua sagoma e del suo aspetto imponente. Oltre a tutto ciò, Abbaia ha tanto da far svegliare i morti. Un semplice ringhio da parte sua dovrebbe far fuggire chiunque dotato di un minimo di saggezza. Ti sei appena sistemato ufficialmente in una regione montuosa che ha più giorni nevati che giorni miti, e per uccidere la solitudine pensi ad acquistare un cane da compagnia. Ho trovato il cane di cui hai bisogno, l'Alaskan Malamut, un bel animale di razza nordica, proveniente prevalentemente dall'Alaska come indica il suo nome, laddove la tribù del Malamut lo allevava per le sue qualità da cane da slitta e da caccia. È affettuoso, calmo, protettivo, intelligente, obbediente, indipendente, imponente fisicamente, ma anche per il suo abbaiare. Non ama la solitudine, gli estranei e gli altri animali. Possiede una personalità amichevole e socievole solo verso il suo padrone. Il Malamut è peraltro molto devoto e leale verso di lui. Possiede anche notevoli capacità fisiche date dal fatto della sua natura da cane da slitta. È esattamente ciò di cui hai bisogno per la tua vita in solitaria in montagna, ma avrai bisogno di molto tempo per riuscire ad addestrarlo, perché possedere un cane come questo non è così facile quanto puoi pensare, ma quando diventerai il tuo miglior amico non potrai mai più separartene. Ti piacciono gli animali e sogni di avere un cane da compagnia, ma attenzione, non uno qualunque. Vuoi un cane che sia bello, elegante, imponente, potente, che sia un buon compagno e un buon cane da difesa. Non hai altra scelta che orientarti verso il mastino tibetano. Questo canide è un ottimo cane d'attacco che può raggiungere gli 80 chili. Anche se è di natura calma e pigra, il mastino tibetano possiede un istinto di protezione molto sviluppato che può condurlo a mostrarsi molto aggressivo quando la situazione lo esige. È coraggioso e non ha paura di niente. È pronto a bagnarsi anche in caso di forte pericolo. Questo cane è prevalentemente utilizzato per la guardia, perché è aggressivo e non esita a mordere se la sua presenza e il suo abbaiare terrificanti non fanno effetto sulle persone che considera intruse. Quindi, se ne vuoi uno, bisognerà assumere una grandissima responsabilità, una responsabilità che pochissimi vorrebbero avere. O altrimenti puoi sempre scegliere un piccolo barboncino o un chihuahua. Anche il chihuahua morde. Fa meno male di un mastino tibetano, ma andrà benissimo. Stai guardando una serie di gangster e sei particolarmente attratto da un cane della gang, un animale dall'aspetto molto feroce e da incubo, soprattutto quando abbaia. Per curiosità fai alcune ricerche per sapere di quale razza si tratta e scopri che si tratta di un bracco, una razza di tipo braccoide che può provenire da molti paesi e regioni del mondo. Germania, l'Alvernian San Germain, Weimar, Ungheria, Polonia, eccetera. Questo cane è famoso per la sua resistenza e la sua tenacia imbattibili. Lo rendono un cane da caccia molto efficace ed efficiente. Grazie al suo aspetto straordinario, le sue capacità fisiche, è anche utilizzato come cane d'arresto. Benché sia di natura calma e paziente, il bracco può diventare molto pericoloso, soprattutto se cresce ed evolve in un ambiente stressante. Il bracco ha bisogno di spazio per sfogarsi e tirare fuori il suo eccesso di energia, altrimenti potrebbe diventare ancora più aggressivo. Il semplice fatto di vederlo abbaiare in televisione ti fa venire la pelle d'oca e hai decisamente ragione. Il bracco è uno dei cani più terrificanti che esistano, soprattutto perché non fa le cose a metà. Ora spegni questa televisione o cambia piuttosto canale, forse dovresti vedere un episodio della serie Rex. I pastori tedeschi rimangono relativamente più rassicuranti dei bracchi. Trascorri fine settimana in campagna da un amico e durante una passeggiata assisti a uno spettacolo meraviglioso. Un pastore sta pascolando le pecore e il gruppo è assistito da un meraviglioso cane, eccetto che non si tratta del classico border collie. Questa volta è una razza molto meno nota. Ti avvicini di più e riconosci la razza. È un cane da pastore della Boss. Un meraviglioso cane da guardia, molto dominante, dal carattere molto imponente, vivace, reattivo, che ama far regnare la legge. Questo canide possiede una grande dimensione, può quindi mostrarsi violento e brusco anche quando vuole semplicemente giocare e divertirsi. Il cane da pastore di Boss non è nemmeno un animale molto amorevole e affettuoso verso il suo padrone, anche verso gli estranei. Il cane da pastore di Boss non è così diffidente. Tuttavia è dotato di una grande forza e di una grande aggressività che gli attribuiscono purtroppo questo piccolo lato pericoloso. Questo ti spaventa e preferisci tornare indietro, ma non lo fai. Vai a conoscere questo pastore e il suo cane. Vedrai che il pastore di Boss fa più paura da lontano che da vicino. Passeggi per la strada quando improvvisamente vedi un enorme e terrificante cane correre dritto verso di te. Una palla di muscoli dalla pelle rugosa e dal muso imbavagliato. Era appena sfuggito la sua padrona che lo teneva al guinsaglio. Terrorizzato rimani di sasso, non riesci a muoverti talmente la paura si è impossessata di te. Il cane, per quanto gli riguarda, non faceva altro che annusare le tue scarpe. Hai appena avuto la fortuna che è imbavagliato perché è uno Shar-Pei, uno dei cani più aggressivi che esistono al mondo. Questo cane, proveniente dalla Cina, è una razza antica di oltre 2000 anni. Era anticamente utilizzato come cane da caccia a causa della sua robustezza, come cane da guardia e cane da combattimento. Lo hai capito. È tutto eccetto che un cane da salotto. Anche se è solitamente calmo e tenero e ha un aspetto da cane di famiglia tanto carino, con il suo fisico robusto e la sua pelle tutta rugosa, lo Shar-Pei può essere molto aggressivo quando è diffidente verso gli estranei. Questo cane ideama imporre il suo potere e la sua influenza sul suo territorio o le persone che ama, proteggendole con le unghie e con i denti. Inoltre, quando non è al massimo della forma, lo Shar-Pei può mostrare segni di aggressività per segnalare che qualcosa non va. Bisogna sapere come reagire con i cambiamenti tempestivi del suo umore e del suo comportamento. Nel tuo caso, sarà sicuramente stato incuriosito dal colore delle tue scarpe che lo hanno messo un po' a disagio. Ciò ti è costato un piccolo spavento, ma non preoccuparti, non ti farà male. Magari però potresti pensare a cambiare le scarpe, se te lo ha fatto notare un cane. Da un po' di tempo pensi ad acquistare un cane da compagnia e la tua scelta sia orientata verso il Labrador. Ma sfortunatamente la persona che doveva venderti il suo Labrador alla fine è cambiato idea e sei molto dispiaciuto. Non c'è motivo per preoccuparti, visto che c'è una razza canina che somiglia quasi al Labrador e che ha anche lei molte cose da offrirti. Dovresti scegliere un Alangu Mastiff, una razza canina di guardia proveniente dall'Asia, con molti vantaggi. È intelligente, obbediente, protettivo, ricettivo ed energico. È un ottimo e molto piacevole compagno di vita. Con lui non ti annoierai mai. Invece dovresti anche sapere che è un cane molto aggressivo, dotato di un forte temperamento dovuto al suo passato da cane da combattimento e cane da guerra. La Langu Mastiff è un cane molto attento, che ha istinti di guardia molto acuti. Farai fatica a educarlo inizialmente, perché non è molto docile. Tra l'altro dovrai formarti per questo. Dovrai anche pensare ad arredare la tua casa in modo tale che si senta bene, perché alla Langu Mastiff non piacciono gli spazi ristretti. Ama gli spazi aperti per sfogarsi, giocare e correre, soprattutto perché si stanca pochissimo. Avrai bisogno di molta forza e coraggio, ma al suo fianco ti sentirai sempre al sicuro. Stai passeggiando al parco e sei improvvisamente attratto da un cane incredibilmente bello. Ti passa da vicino e hai la pelle d'oca. E non è per niente. In realtà si tratta del Bandog, chiamato anche Mastino Bandog o Mastino americano, un cane molosso proveniente dagli Stati Uniti, considerato come uno dei migliori cani da guardia e cani da difesa del mondo. Il Bandog ha un aspetto robusto, sportivo, muscoloso e un fisico molto potente. È un cane da combattimento, famoso per il suo carattere aggressivo e dominante, particolarmente verso gli intrusi e le persone che non conosce. Invece, verso il suo padrone è protettivo, devoto e leale. Tra l'altro bisogna essere molto esperti in materia di cani molossi se vuoi possederne uno. Ama l'esercizio, quindi ha bisogno di vivere in un ambiente molto spazioso. Il fatto che passi vicino a te ti terrorizza, non aver paura, è anche un cane molto affettuoso, il quale non farà del male senza ragioni. Allora, sei tranquillo ora? Dicci cosa ne pensi di questi cani e dici se ti piacerebbe averne uno. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!